Il gol, come sapete, se lo dedico a mia mamma che non ce l'ho più, quel gol è importante per me perché mi dà fiducia, mi dà voglia di continuare a fare bene, è sempre il meglio per la squadra e non penso solo che sia stato bello per me perché noi ci lavoriamo sempre da squadra e pensiamo ad andare avanti così. Sì, spero, spero di fare bene qua a Palermo perché l'anno scorso non è andato bene così come volevo e spero di fare bene e speriamo di fare bene tutti per il meglio del Palermo. Sì, questo abbiamo parlato dopo il primo tempo che non potevamo abbassare il ritmo di un centimetro perché sapevamo che il Carpi è una squadra che giocava tanto in contropiede e si è visto dopo il gol, loro sono venuti avanti a cercare il gol del pareggio ma noi abbiamo stati bravi a non concedere niente e abbiamo portato questo risultato a casa che è importantissimo. No, questo è una scelta ma noi sapevamo che abbiamo un gruppo forte, che tutti quelli che stanno fuori, che non giocano possono entrare in qualsiasi momento e si è visto che in partita le scorse sono entrate, sono entrate benissimo quindi sono tutti a disposizione, tutti possono giocare quindi quelli che entrano in campo è sempre per dare il massimo e cercare di portare sempre a casa punti. Io sempre parliamo tra i coschi ma no, io mi trovo benissimo con lui, sapevamo che chi giochi cerca sempre di fare meglio per la squadra perché è quello che vogliamo, giochi chi giochi. Io se non gioco mi sento felice che gioca tra i coschi perché sapevamo che è un giocatore fortissimo per noi e puoi fare tante cose importanti per il Pallero. No, sono tranquillo, è solo che volevo segnare questo gol perché per tutto quello che ho passato settimane scorse, ma io non, come ho detto quando sono arrivato non sono un bomber, non mi interessa tanto segnare se no di dare il massimo per la squadra perché se tu giochi da squadra dopo il risultato e tutto viene da solo. Sono diversi, tutti hanno il suo modo di gestire la squadra, di fare giocare la squadra, adesso siamo bene, stiamo andando avanti partita dopo partita e cercando di fare tutti i punti possibili per restare lassù in classifica che è importante per noi. Per me non cambia tanto, possiamo giocare sì insieme perché mi piacerebbe giocare insieme a lui perché è un giocatore come ho detto importante per la squadra e dopo è una scelta che si fa in settimana, giochi che giochi siamo tipo giocatori diversi ma cercamo sempre di dare il massimo per la squadra, dopo che giochi uno e l'altro è lo stesso, bellissimo dai, ma ancora lungo il campionato Serie B è sempre bello per questo perché ce l'ha sempre sorprese e speriamo di stare tutto il campionato lì lottando per il primo posto ma sappiamo che è difficile cercare di fare il massimo. Sì certo ci abbiamo parlato tanto di queste partite che sono tutte importanti per fare punti, abbiamo parlato di fare tutti i punti possibili per cercare di stare lassù e stare più tranquillo. Adesso viene Cosenza che sapevamo che è una squadra che lotta per salvarsi e darà tutto per venire a vincere a Palermo e noi dobbiamo essere forti e consapevoli che siamo forti che stiamo lottando per il primo posto e fare punti. Sì ma se tu guardi le partite riesci a capire quali sono le squadre forti e dopo noi non pensiamo tanto agli altri se no pensiamo a noi che dobbiamo fare partita dopo partita per migliorare e per per crescere e cercare di compiere questo obiettivo che ci siamo messi all'inizio. è il cambio di gioco magari non lo so ma noi sempre pensiamo da Conte Dino adesso con Stedone di fare sempre bene magari Conte Dino abbiamo fatto qualche partita così così adesso stiamo migliorando ma adesso perché siamo con la continuità delle partite siamo ancora meglio e cerchiamo di stare meglio ogni partita e fare bene fino alla fine. Noi sapevamo che affrontare queste partite è importante che da prima in classifica è un'altra cosa. Penso che loro quando giocano con il Palermo devono dire giochiamo con il primo in classifica quindi oggi è dura e sarà così fino alla fine poi sono convinto che questa squadra è forte e lotteremo fino alla fine per salire. Io penso non lo so difficile ma penso di sì perché la mentalità sempre era quella di lottare per un solo obiettivo quindi il cambio allonatore mi sa che è importante perché abbiamo cresciuto tanto ma penso che Conte Dino si continuava lui era lo stesso ma noi non dobbiamo mollare mai e continuare a fare quello che dobbiamo fare. In trasferta sapevamo che le squadre si fanno forte in casa quindi noi usciamo dallo spogliatorio a dare il massimo dal primo minuto di cercare di fare gol di fare bene di dimostrare che noi siamo forti e penso che in trasferta abbiamo fatto meglio sì però adesso in casa sapevamo che questa partita che viene è importantissima quindi faremo il meglio per portarla a casa. Sì sarebbe bello perché un stadio grande così senza pubblico è un po' brutto ma sapevamo che la gente è con noi e lotteremo fino alla fine. Grazie